Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di Halo Reach Vedi continuiamo da dove eravamo rimasti Questa base che dobbiamo far fuori tutti come al solito Vai una volta che ci invita qualcuno a prendere il tensione Sempre a sparare prima Ahia mi sono bloccato Eh che cazzo Eh si vai vai mi viene da ridere Ok la miseria che capriolo la che hai fatto Si si te urla Un uccidenti sei stato cattivo e estruso E' morto lo stesso eh E non mi sono fatto malo eh Ok si si voi sparate che tanto Vi arrivo anche da voi Ok Lo salve Ne salta parecchio sa Siamo sicuri che è sicuro? Non sono mica tanto sicuro che sia sicuro Può tornare al suo mezzo Ah mezzo nel senso che me l'avete diviso a metà O mezzo nel senso di cose trasportabili insomma Devo andare di la Ok speriamo sia intero Perché se è mezzo non ne faccio niente Devo andare di sopra ok Intanto così ne approfitto per vedere se trovo un'arma C'è nel senso la ricarica Questa? Lo cazzo mi ha risposto Eh vabbè eh eh Devo salire ancora eh Devo salizionare Quindi salizioniamo Eh vediamo Ok Qui c'è qualcosa Col cazzo mi ha risposto Eh vabbè Faremo con quello che ho Quindi devo ritornare qua E mi dirai un altro posto Adesso mi da sto coso E' come guidare un cetriolo sulla maionese Santa miseria Adesso devi dimmi però dove devo andare Non lo dirà Non lo dirà Qui Oscar 1-8 Disturbatore eliminato E attendiamo evacuazione Ma dai cerchieri ci bersagliano Ricevuto 1-8 Procedi alle coordinate Ripulisci la zona d'atterraggio Ok dimmi Oh finalmente mi dice qualcosa Ok Andiamo Tiri più 1-8 Per prendere 4 La 4 la sto prendendo Ok Ok Andiamo Qui c'è qualcuno Che rompe il marone Se c'è qualcuno Non riesco a vedere come si fa Eh aspetta un attico Va Ci identico Mi si guida bene Come si guida bene Sto cazzo di coso Ok Eh rilassati Oh santa miseria Ho parcheggiato benissimo Forca miseria che parcheggio che ho fatto Allora dov'è questo Ok To Oh Toi Scusa Mi sei estruso To E to Oh Quel baracchino Lo sono riuscito A colpirlo E col colmo Ok E non è ancora morto Oh Mamma mia Ok adesso possiamo andare qua Ho parcheggiato bene È stato bravo eh Vabbè lui è contento eh Cos'è che devo fare? Quindi Difendo Se mi dite dove siete Io non vedo nessuno da difendere qua Che sia qui sopra Premi per chiamare l'evacuazione Premi giù Preparati Ok Ah ma quindi era facilissimo Ok Tieni duro tenente Il falcone è in arrivo Perfetto Grazie a Spartan I cecchini ci tenevano in pugno Ah figurati Sono piaciore Meno male che avevo quest'arma insomma C'è una con l'altra Sarebbe stato un po' più un casino eh Cosa dite? Questa qui insomma Mayday Mayday 7 delta 1 9 a tutti i reparti CST La tua situazione 1 9 Disturbatore localizzato ma ci sparano addosso Richiedo assistenza Sinnovia Center Dimmi dove devo andare Che cazzo devo fare Sempre con me 1 9 7 delta 1 9 mi ricevi 6 dai una mano a quei soldati In ogni caso sistema quel disturbatore Ok dimmi cosa devo fare Oh salve Distruggi il colpo Ma devo per forza guidare Non puoi guidare te Non puoi guidare un altro Oh che bello Ha detto lui guido io eh L'ho sentito Eh sta proprio guidando Sta proprio guidando bene eh Sta proprio bene bene eh Porca miseria Ho detto che guidare a me lo sapevo io Ha detto guido io L'ho sentito bene Avete sentito anche voi Eh ok però fammi trovare Il tipo da sparare io non lo vedo Io vado dove dice lui Poi dopo vedremo Cosa fare insomma Eh come si guida bene eh Proprio bene bene Ok dai ci siamo Siamo arrivati Un altro parcheggio fatto bene Stai avvicinandosi Attento al fuoco nemico E come cazzo si va giù Facciamo saltare quella torretta Oh cazzo Oh cazzo L'ho mancato alla grande Eccoci qua A posto Sono arrivato Ok Oh mamma mi sento Più sicuro a pieno terra Non so Insomma Mi sentivo un po' volatile prima Andiamo su Oh salve Perfetto Oh ma questo Eh ci piace una volata È volatile Questo coso Ok andiamo sopra Tu a nobel 6 Non ricevo più Trasmissioni da quei soldati Dovrai occuparvi da solo Di questo disturbatore Sì intanto Disturbo io un po' loro Ok calma Ce la posso fare Ok Ce l'ho fatta Sì sì Non vi preoccupate Oh e la miseria Ma chi è che mi sta sparando Oh ma sei un animalo Te l'ha detto mai nessuno Che mi ha fatto perdere vita Ma si fa così Accidenti Un'arma più diversa Ok Andiamo alla piattaforma nord Eccolo qui Medikit E siamo a posto Ho poche munizioni Però Ce la posso fare Ce la posso farcela Ne sono sicuro Vabbè Ah ecco dicevo Funziona benissimo Non è che mi dai munizioni No qualcosa Sai A parolacce non riesco a difendermi Ci ho provato Un sacco di volte Il risultato è stato pessimo Allora vediamo un po' se trovo qualcosa Ok Fucile a pompa Questo qua Cosa fa Non lo so Invisibilità Beh non serve male Un po' di invisibilità Ma tanto se sparo poi mi vedono Quindi serve proprio poco Ok Sembra che sono arrivato Senza ci si problemi Sei vicino al disturbatore Distruggilo Ok Perfetto Strano che non ci sia nessuno Però eh 90 minuti Esci subito di lì Grazie eh Molto gentila Adesso uscirò un attimo solo va Ok Cazzogliato questo Uno salve Eh ma serve Si fa così Eh Ok Questi non hanno Il benché minimo Armamentario Ok Perfetto Perfettico Piano piano Li prendiamo tutti E' che mi manca l'arma Fra poco Beh sostituisco in un modo In un altro Lo trovo in un modo Allora Eeeh Quanti siete Ok Ok Piano piano Prendo tutto Vi preoccupate Ok Ok cosa mi ha dato Oh salve Ok Eeeh Eeeh Perfetto Direi che siamo a cavallo eh Devo andare di qua Ah Si mi sono caccato in mano Ok Perfettico Allora sto pensando Devo ritrizzare Devo Pensare a tante cose Oh salve Ok Eeeh 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 Non so E' che son tanti Son tanti ed è fatica a prenderli perchè Volano parecchio eh Oh santa miserica Eeeh Ce l'ho il medikit vero? Si che ce l'ho Ok eeeh proviamoci Questo è quello che corre Non mi interessa Ho fatto una bella strage eh Porca vacca C'era un bel po' di gente Eeeh Quello stava lì a aspettare che arrivasse qualcuno Sono arrivato insomma Aleh Siamo quasi arrivati Salve Ma qui ha dato la patente volatica questa A sti cosi Allora mettiamoci in un punto che sappiamo che Siamo coperti di spalle Oh salve C'è tanta gente Si ma è un'invasione massonica questa L'altro che tappola Qui c'è tutta l'armata Degli Dei volatili qui Eeeh Fatica fatica Qualcuno prendo ogni tanto eh Però c'è Quest'arma non è proprio molto adatta Chi è? Lo sto prendendo eh però Non mi piace molto Ma un attimo eh Se la posso fare I venti kit ci sono Quindi Non mi spavento più di tanto Ok Piccato non morire Uff Quanti sono Potremmo prenderli? Ok Ogni tanto si Ok Perfettico Ah Fly Ok 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 E' fatta Oh la doveva avere presi tutti eh Apostolo Fatta Mamma mia quanti Spari che ho fatto Torna al falcone e appendi istruzione Ok Gli ammassati tanti tanti eh Al falcone Falcone è quello che ho parcheggiato tanto bene vero? Eh vabbè Eh vabbè eh eh Tutta così Oh ma c'è tanta gente morta Vedo la gente morta Il falcone? Non me lo ricordo di capire dove l'ho messo? Dove l'ho parcheggiato il falcone? Vedete mi ricordo più casso 6 C'è un'evacuazione sotto attacco da parte di una torretta shade Distruggila così aiuteremo quelle persone Ok Dimmi dove devo andare 800 metri Di là Come ci salgo qua Allora fatemi vedere forse di qua eh Ecco il falcone ok perfetto Allora Ok andiamo Vediamo salga Dovrebbe salire Ok sta salendo Vediamo un po' Ok 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 Andate Grazie È stato davvero piaciore Insomma Mi sono incastrato Ci è andato a prendere il pezzo più di merda eh Porca miseria Che volare adesso Se ci riesco Ok Scusate eh ma 4 Charlie 27 a comando Richiedo assistenza immediata Prosegui 27 Siamo alla torre Vairant Telecom Ci sono dei cacciatori tra noi e il disturbatore Ok 27 supporto in arrivo SIX invio le coordinate della torre Vairant Cerca di sbloccare la situazione di quei soldati Questo è l'ultimo disturbatore SIX ci sei quasi Ok Quindi dove devo andare? Di qua ok Vai Di qua Vai Velocità Velocità Andiamo andiamo Ok Ce la facciamiamo Da che l'ultimo Mamma mia Si guida bene bene sto coso Quello che cavolo Checkpoint Bene così almeno se moriamo Continuiamo da qua Ok Anteraggio più spietto Oh santa miseria Ok No 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 Come è morto male lei signore Come è morto male lei signoro No 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 mi piace questo Ehh purtroppo non me ne sono accorto scusatemi Non me ne ero proprio accorto delle torrette Ho fatto la mia cacata e adesso siamo tutti contenti insomma Ecco qua Quindi io potrei magari prendere le torrette da lì Chiedo eh Vediamo se ce la faccio No, non ce la faccio Non ce la faccio Mi tira le bombe, grazie Ok Niente paura, c'è Alfred Ok, andiamo da questo adesso Ok Allora, vediamo Oh, salve Ok Vediamo se riesco a prenderlo in modo Per riuscire a Non ce la faccio Questo sì però Perfetto Non è che questo posso usarlo a mio favore No, eh, quel cazzo Dove sei? Dove sei? Ah, se muore quello muoio anch'io Che bella caccata ho fatto Vabbè, ci vediamo fra poco Ok, ragazzi, ci siamo quasi Adesso ho amato gli ultimi due Ultimi tre, quel che sono Posizione porta Sono atterrato qui Di lato Perché così Ero atterrato qua Poi è sparito tutto Vabbè, comunque sono atterrato di lato Invece di atterrare là E quindi L'ho preso da dietro Diciamo Ok Vediamo un po' come fare Non c'è più nessuno Quindi devo andare qua Presumo, eh Così a naso Sì Questo lo prendiamo Non si sa mai Ho fatto un giocino Allora 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 Dove è tutta questa zenta? Questo è quello là brutto? È quello là brutto Però lo sto prendendo da dietro E cosa so che è così brutto Ho detto Però Allora È così che funziona Se lo prendi da dietro Ok Da dietro Se riesco a prenderlo Certo che Ce ne vogliono tutti, eh Aspettate Ci è svegliato, eh Quindi dai, dai Adesso ci ritiro una bombetta Ok Non è malo così Se riusciamo piano piano Prenderli Infatti I miei faranno qualcosa, no? Credo di no Tutti due qua Bisogna prendere in modo strategico Queste Ok Ah Beh l'ho preso proprio in faccia Invece di prendere in modo strategico Porca vacca Ma Questi come li butto giù? Parolacce? Ok Io lo sto prendendo Eh Perché sta sanguinando Oh Uno è andato Dai Non ho tante punizioni Però dai Insistendo Ok Dai Fai qualcosa A te da là Ok Oh Ce l'abbia fatto Dai Detto io che ci facevi in modo strategico Dimmi che sono munitioni No Non sono munitioni Però meglio di un caccio nel pallo Sicuramente è E qui c'è un altro Quanti cazzo c'è Ok Ok Opla Eh Fa piuttosto malo Cosa dite voi? Vediamo se questo Magari può essere Ti aiuto Ma comunque Decide andare qua Intanto ci vado E poi vediamo Insomma Valuterò Ecco qua Fatto Eh eh Gli obiettivo è stato raggiunto Grazie Oh Sarà un bel casino Tornare al palco adesso Eh Io mi ricordo Vero piazzato Cioè non lo trovavo Prima Ma dove cazzo Devo andare Devo andare di sopra E poi usci dal sensore Ok Mi sono trovato Ovviamente non è questo No è questo invece Il mio palco Che era di qua C'è che poi ho superato Spero che me lo abbia fatto sponare Perché ci succede Nobel 2 a Nobel Leader I disturbatori sono sistemati Ok Nobel 2 Nuove direttive Tutto il personale Deve essere evacuato Dal QG Ioni Conferma Confermo Evacuazione Torno Nobel 2 Nobel 2 Rapporto I Covenant Stanno attaccando il QG Hanno annullato Il mio segnale Avvia l'evacuazione Ricevuto Six Vieni qui E fornisci copertura Ai Pelican in fuga Decolla subito Ah se mi date da decollare Io decollo Il mio coso È sparito Il mio Il mio ambasciatore Qua è di là Sta arrivando Meno malo Insomma adesso Dittemi da lasciù Come faccio a prenderlo Eh che cazzo Ok Qualcuno arriverà Ok Di là L'importante è che c'è qualcuno Va bene ragazzi Dai direi che ci possiamo Anche fermare qui Per questo video è tutto Vedo come solito Lascerò là Anche in commento Se mi piace Sare di fammi Sapere Cosa ne pensate Adesso vedo solo Toshiba Ciao ciao